Nell'albergo dove alloggiavamo c'era una splendida piscina, dove buttai la bambolina spagnola col suo vestitino frapposolilla, che mi aveva comprato la mamma. Ma l'immagine più scioccante furono le incantevoli piscine Martinez, dove credetti di essere entrata in un paradiso. Tutti questi paesaggi erano così diversi, alcuni selvaggi, altri artificiosi. Facemmo anche il giro sui cammelli per il paese, con quell'odore tremendo, e una cantata in mezzo al mercato, con le persone intorno che mi facevano sentire importante. Perché quello era il mio mezzo d'espressione. Ricordo quel profumo buono, intenso e speciale, che sprigionavano le saponette dell'albergo, che ho conservato per anni nel cassetto della biancheria. Pochi mesi fa ho rintracciato un video di quel viaggio, dove cantiamo nella vecchia fattoria, io faccio il cane, e la scossa emotiva che ho provato è stata veramente forte. Rivedersi piccoli è bellissimo, perché poter rivedere il proprio passato aiuta anche a capire chi si è.